E' nelle mani delle banche il futuro della Keller di Villa Cidro. Nelle 15 a Milano in programma un incontro al quale parteciperà anche la Regione e dal quale dipende la sorte dell'azienda che costruisce vagoni e carri ferroviari e che è entrata in crisi dopo che Trenitalia ha revocato alcune commesse per decine di milioni di euro. Stamani 150 operai hanno manifestato sotto il palazzo della Regione in Viale Trento a Cagliari per chiedere il sostegno a un'avvertenza che si è fatta insostenibile per i 300 lavoratori della Keller. L'azienda si è riunita e ha detto che hanno un mese e mezzo di tempo per poter risolvere le cose. Se no è fallimento. Mi auguro che non sia uno sparacchio per il fallimento davvero di questa azienda. Speriamo che Trenitalia ci ripensi. Una delegazione di lavoratori e di sindacalisti regionali del territorio si è poi incontrata con l'assessore all'industria Oscar Kerchi che ha illustrato la doppia linea d'azione della Regione. Un contatto con le banche per seguire il livello finanziario della vertenza e un incontro a Roma, forse domani, per monitorare la posizione della Keller e cercare di comprendere i motivi per i quali Trenitalia ha annullato le commesse. CGL e Cisleguil intanto hanno chiesto e ottenuto dall'assessore Kerchi l'impegno a un tavolo interassessoriale per dare organicità all'avvertenza, forse in programma giovedì, e hanno sollecitato l'amministrazione a portare l'avvertenza Keller a confronto con il governo su tirrenia ed entrate. CGL e CGL